Togliamo un'intersezione pericolosa e realizziamo una rotatoria di 35 metri di diametro che mette in sicurezza e in garanzia tutte le persone che passano. Via il semaforo di strada ovest all'altezza del pericoloso, incrocio con via Fontane, teatro di diversi incidenti dove oltre 15 anni fa era stato installato anche un discurso T-RED per sanzionare il passaggio con il rosso, che negli ultimi tre anni ha registrato 2870 violazioni, 950 all'anno. Con una breve cerimonia sul posto, il sindaco di Villorba Marco Serena e i privati che finanziano l'opera hanno dato a via i lavori che dureranno 100 giorni. Finalmente oggi arriviamo a fare la prima rotatoria all'interno dell'asse stradale conosciuto come strada ovest. Questo tratto viario che era nato come una tangenziale di Treviso in realtà è parte integrante del tessuto urbano di Treviso e anche di Villorba e è quindi giusto che si pensi a un sistema più moderno e più sicuro per far transitare le persone. Con questo intervento Villorba realizza la seconda rotonda su Viale della Repubblica dopo quella con Viale Felicent. Il resto ora aspetta a Treviso che era però assente alla cerimonia. Finanziatore dei 340 mila euro necessari, un'azienda privata sulla base di una convenzione stipulata con il Comune. Ha fatto un intervento di ristrutturazione edilizia addirittura riducendo la cubatura che aveva a disposizione per dare ai propri clienti un accesso più sicuro, più moderno e più bello e quindi un più bella faccia anche per strada ovest riqualificandola.